Mentre il Vecchio Ordine si dissolve, il Nuovo si genera dal caos. Qualcuno ha giurato vendetta per le sofferenze sopportate. Altri romperanno il Sacro Patto perseguendo una nobile causa. Il destino si plasma nelle nostre mani. E tu? Quale futuro vuoi forgiare? No! PlayStation. Sorry, sono bravo mi page вам! Dono un tema!